Ehi ragazzi, che dolce risveglio! E la neve soffice che scende dal cielo, wow, poi è un regalo ragazzi, che regalo! Buona giornata a tutti, buona giornata! Ciao ragazzi, amicizie in viaggio anche sotto la neve, benvenuti nel nostro piccolo paesino. Noi siamo in provincia di Vicenza ed oggi è una mattinata fantastica. Siamo qui apposta a congelarci per mandarvi il saluto più caloroso possibile. Buone feste a tutti! Ciao! Sotto la neve! Evviva! Eccoci qua amici, come vedete la strada qui davanti alla nostra casa è impraticabile. Non ci dispiace perché stamattina quando abbiamo aperto la finestra abbiamo visto il panorama e abbiamo constatato che la strada non si poteva usare e abbiamo detto che peccato, non possiamo andare a lavorare! Non ci dispiace perché la strada non si poteva usare Eccola qua! Se guardate sopra lo specchietto vi dà l'impressione di quanta ne è caduta! Eccola! Nel paese delle meraviglie! Ciao! Che magica! Che magica! Che magie ragazzi della vita! Ciao Steffi! Ciao a tutti! Mitica, mitica, mitica! Eccoci qua! Mamma mia, che bello! Vieni, vieni Massimo, vieni! Guarda qui! Eccolo! Guarda! È tutto nostro! Guarda qui! 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 Grazie a tutti. Quanta neve, quanto freddo. Ciao Ibrahim, che dopo veniamo a prenderti, dai. Abbiamo la slitta pronta con le renne per venire a prenderti. Ho gonfiato le gomme alle renne. Ciao, ci vediamo dopo. A dopo, ciao. Grazie a tutti.